Ecco Elio tranquillamente ha fatto il passo indietro, questa è la riprova, la prova provata, che siamo un altro stile di vita, abbiamo un altro stile di vita. Il gentile ma deciso no di Elio Continibali ad entrare nella giunta del sindaco di Messina Renato Accorinti e per il primo cittadino ancora una volta occasione per marcare le differenze tra chi nelle passate amministrazioni non avrebbe mai rifiutato una poltrona e chi invece per evitare di mettere il comune in difficoltà accetta di aiutare anche dall'esterno. Il caso Elio Continibali però, inutile negarlo, non è stato per l'amministrazione Accorinti un passaggio positivo. Sono stati infatti buona parte dei suoi stessi sostenitori, quelli di Cambiamo Messina dal Basso, a contestarne la nomina, evidenziando trascorsi politici non in linea con la giunta e mettendo in evidenza parentele riconducibili a presunti poteri politici. Accorinti difende però la sua scelta dettata solo dalle qualità del professionista Elio Continibali, peraltro mai contestate, e si sfoga chiarendo il suo rapporto con i partiti. Ma da andare a parlare con loro, a pensare che ci sono inciuci con loro, e poi se ci fosse veramente una cosa, io lo direi chiaramente, abbiamo un accordo con quel partito, con l'altro. Io parlo con Enzo Garofalo, come parlo con Dalia, come parlo con i parlamentari 5 Stelle, sono i nostri parlamentari. Da evidenziare però la caduta di stile del sindaco, che ha sottolineato nel comunicato che è stato distribuito, come anche la stampa abbia contribuito, sul caso Continibali, a generare un clima di pregiudizio, offese e contrapposizioni, poche righe che hanno suscitato la reazione di alcuni dei giornalisti presenti questa mattina a Palazzo Zanca. Senti, a ogni volta che c'è qualche cosa, voi tirate in ballo sempre... Il senso è dato nel tuo movimento, noi l'ho fatto per la proposta. Ascolta, guarda, se volete fare... Rimane il fatto che se la nomina di Elio Continibali è saltata, è stato per la mancanza di sostegno da parte di chi avrebbe dovuto appoggiare le scelte del sindaco, e non l'ha fatto per la legittimità di posizioni diverse. La stampa locale ha solo raccontato, come fa da anni e con qualsiasi sindaco, quello che accade nel palazzo.